22 anni, una passione sfrenata per le armi e un odio altrettanto sconfinato per gli ebrei e per le donne. È finito in manette questa mattina un giovane di Savona nell'ambito di un'operazione antiterrorismo in ambienti della destra radicale contigui al terrorismo di matrice suprematista. Sono in corso anche 12 perquisizioni nei confronti di persone vicine al 22enne nelle città di Genova, Torino, Cagliari, Forli, Cesena, Palermo, Perugia, Bologna e Cuneo. L'indagato, insieme ad altri coetanei, aveva costituito un'organizzazione denominata Nuovo Ordine Sociale, di matrice nazionalsocialista, finalizzata al reclutamento di volontari e alla pianificazione di atti estremi a scopo eversivo. Tramite WhatsApp e altre piattaforme di messaggistica incitava alla rivoluzione violenta. Fra gli obiettivi del giovane figurava anche il compimento di azioni terroristiche di matrice suprematista analoghe a quelle realizzate nel 2011 e nel 2019, rispettivamente Autoya in Norvegia e Christchurch in Nuova Zelanda. Stragi che venivano esaltate anche nelle conversazioni fra i membri del gruppo. In varie chat analizzate erano presenti istigazioni alla commissione di atti estremi, anche sacrificando la propria vita.